Con che prodotti si fa il paragone? Sicuramente non è corretto fare il paragone con i cracker, visto la farina di grano, presenti nei supermercati. Perché i nostri Cracker Bites hanno delle proprietà e dei valori nutrizionali completamente diversi. Ad esempio contengono il 25% di proteine e sono una fonte di proteine complete, di minerali e di vitamine come la B12. È un prezzo perfettamente in linea con quello di una classica bareppe proteica, rispetto alla quale i valori nutrizionali dei nostri cracker non hanno nulla da invidiare. Ciascun pacchetto contiene 9 grammi di proteine complete e costa soltanto 1,60€. La nostra farina, 100% di Grigli, ha un contenuto proteico del 77% del suo peso, mentre quella di Buffalo Worm del 57%. Quindi basta aggiungere davvero una piccola quantità per aumentare notevolmente il contenuto di proteine, vitamine e di minerali della ricetta che si sta preparando. Insomma, il paragone sul prezzo andrebbe fatto con ingredienti simili per valori nutrizionali come ad esempio la spirulina, l'isolato di soia e la farina ai lupini.